La prova di tenuta di strada Si prende la media fra il tempo migliore a rotazione destra e il migliore a rotazione sinistra. Si hanno così tre tempi relativi alle tre circonferenze, che danno un indice sul comportamento della vettura in curva e sul limite di velocità al di là del quale si verificano fenomeni di sovrasterzatura e sottosterzatura non controllabili. La prova dà anche l'indice della tendenza della vettura al verificarsi dei sopraddetti due fenomeni.